...articolato, affronteremo i temi dell'ingegneria a tutto tondo, anche alla luce delle grandi criticità del periodo, ma soprattutto delle opportunità date tra l'altro dal PNRR. Anche se effettivamente dal PNRR si possono fare diversi investimenti, quindi è anche un'opportunità per la categoria. È una grandissima opportunità. Beh, il tema più attuale è quello dell'energia. L'ingegneri e l'energia sono due temi che viaggiano molto stretti. Le nostre proposte credo che saranno fondamentali per poter utilizzare al meglio le risorse del PNRR che saranno strategiche, non solo per la crescita del Paese, ma anche per le difficoltà che stiamo attraversando.